Il Capodanno si sa è sempre l'occasione per fare due salti e anche per smaltire qualche caloria tra una portata e l'altra. A Cigiano, frazione del comune di Civitella in Val di Chiana, quest'anno non hanno scherzato. Con il DJ set di Lorenzo Paggetti hanno tutti saltato dall'inizio alla fine della lauta cena preparata come sempre dalle sapienti mani delle donne di Cigiano, dall'antipasto ai primi piatti fino ai secondi che hanno rispettato la tradizione ma con un pizzico di fantasia. Tutto volontariato per ritrovarsi comunità anche in questa serata speciale che saluta il 2019 e dà il benvenuto al 2020, un piccolo paese ma che riesce nelle occasioni più importanti a ritrovarsi e aggregare allegria e buona tavola. A Cigiano fino al 6 di gennaio è anche possibile visitare un bellissimo e rinnovato presepe meccanico ospitato come sempre nella Chiesa della Madonna, anche questo frutto della operosità dei sapienti artigiani del paese. Benvenuto a 2020 dunque l'augurio è che le tradizioni facciano sempre da ponte tra ieri, oggi e domani in ogni angolo di questo nostro bellissimo territorio.